Per tutti i lavoratori che sono nel settore dell'artigianato, ecco Artifond, il fondo di pensione integrativa per loro. Sentiamo cos'è nel servizio. Lavori nell'artigianato? Costruisci la tua pensione integrativa con Artifond. Perché Artifond? Per costruire nel tempo e senza fatica un futuro più tranquillo dal punto di vista previdenziale. Per utilizzare il contributo della tua azienda a vantaggio della tua pensione integrativa e per godere dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge. Per investire al meglio il tuo TFR, perché si tratta di un fondo sicuro con ampie garanzie di controllo ai propri associati. Cos'è Artifond? Artifond è il fondo autorizzato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione Covid e nasce allo scopo di realizzare una pensione integrativa per i dipendenti del settore artigiano attraverso un conveniente sistema di accantonamento. Il fondo non ha fini di lucro. Per maggiori informazioni rivolgiti alle sede sindacali della regione Liguria. Per la Cisle a Genova e Liguria in piazza Campetto al numero di telefono 010 247 2541. Per la Cisiguglio in piazza Roma a Chiavari 0185 325 332. Cisle a Spezia in via del Carmine 7 il telefono è 0187 2531. Cis Savona galleria Schiero 3 il telefono 019 840041. Cisimperia in via dei Genese 8 al telefono 0183720100. Potete consultare anche tutte le informazioni sul sito web della Cisle www.genova-liguria.it E anche per questa sera Cisle.Liguria termina qua. Vi ricordo il prossimo appuntamento per il 27 giugno alle 18.45 su Tele Genova. Grazie per l'ascolto e buona serata. Grazie a tutti.